buongiorno ragazzi siete tutti pronti vi vedo tutti attenti con le orecchie in su per ascoltare queste parole che posso dirvi sulla comunicazione umana nella seconda micro lezione su questo argomento cominciamo dal termine siccome non abbiamo paura di utilizzare il vocabolario il dizionario possiamo imparare anche questa parolina nuova che è assioma la parola viene dal greco ma noi non ci siamo mai spaventati per il greco perché abbiamo fatto il classico e quindi sappiamo che axioma è una parola che significa più o meno insomma degno nel linguaggio comune questa parolina viene ad assumere il significato di una cosa che è scontata una verità che non abbiamo bisogno di dimostrare perché è evidente che è così per approfondire diremo che in matematica questa parola questo termine assioma significa che un enunciato è valido pur non essendo stato dimostrato ed è così considerato vero di chi è una cosa molto strana ma no perché ci sono delle evidenze che non necessitano di alcuna dimostrazione è chiaro è lampante è palese che siano vere credibili attendibili con questo termine studiosi della comunicazione che ci aiutano a capire questi passaggi che noi stiamo cercando di analizzare vatlavic bevin e jackson hanno indicato delle proprietà semplici che compongono la comunicazione interpersonale hanno indicato quelle caratteristiche che in generale si riscontrano nella vita di relazione tra gli esseri umani vi chiederete perché ci torna utile conoscere questi assiomi queste verità evidenti e del resto vi chiederete se sono evidenti che bisogno che qualcuno me le metta sotto il naso e invece no perché si sono evidenti però sono state evidenti a degli studiosi e grazie a questi studiosi noi se le studiamo cerchiamo di capirle conosciamo meglio le dinamiche che avvengono nella relazione tra le persone quando le persone comunicano tra loro in questo modo conoscendole otteniamo almeno due risultati importantissimi il primo formuliamo una comunicazione più efficace in base a questi principi e il secondo è che rispettandoli e cercando di sfruttare al meglio quello che conosciamo grazie a queste verità noi riusciremo ad evitare delle incongruenze nella comunicazione eviteremo di essere fraintesi no? per cercare di spiegarmi meglio mi faccio aiutare da un breve video che vi propongo e che vediamo insieme cosa si usa nella cucina macro? il macroonde conosci il kamut? mai vedut cosa metti se vuoi evitare lo zenzero? le zenzeriere e? dove si compra il farro? in farra menta couscous, tapioca, burgur? bus, carioca, parkour cosa abbini al gelato affogato? una ciambella gonfiabile e se ti dico glasse? ti dico plego allora giovanotto non ci siamo tu di ingredienti non capisci un cappero devi sapere che la cucina è un'arte sinestetica che si avvale la cucina? perché si avvale di sapori, profumi e persino di suoni per esempio sai come parla la pasta? in dialetto maccheronico non hai capito? allora può essere toscano e anche scuro stiamo parlando di? Carlo Conti ti senti portato? per che cosa? per il galateo? abbastanza montale, saba, ungaretti, cartucci sono tutti nomi di? vie con questo ragazzi vi vorrei dire che a volte non sapere comunicare serve perché il buon umore è scientificamente provato alza le difese immunitarie e mai come in questo periodo forse ne abbiamo avuto bisogno eccoci dunque al testo in base al quale noi ricaviamo queste informazioni che ci aiuteranno a comunicare meglio lo ha scritto insieme a altri due autori uno psicologo austriaco che ha nome Paul Vatlavic anzi Vatlavic l'accento controllato ed è Vatlavic anche se la pronuncia ragazzi naturalmente non è austriaca non scherziamo lui era un ricercatore nella scuola di Palo Alto in California e ha pubblicato insieme a questo testo al quale facciamo riferimento che è Pragmatica della comunicazione umana altri 18 testi con dei nomi anche curiosissimi che poi se andate a spulciarvi vi divertiranno per esempio non guardiamoci dentro una cosa del genere laddove insistiamo tante volte dicendo bisogna guardarsi dentro bisogna capire che cosa pensiamo bisogna capire che cosa vogliamo insomma sembra un po' in contraddizione ma non è così sicuramente anche qui ci serve capire il significato del termine ma poi ragazzi fate attenzione perché l'etimologia del termine non può esaurire quello che possiamo capire intorno a questo termine a questo vocabolo quindi sapete che quello può essere un punto di partenza ma poi ci sono una quantità di altre considerazioni quantità di altri fattori che bisogna prendere in considerazione per cogliere bene il significato dei vocaboli e di questo anche in particolare il vocabolo è pragmatica è un vocabolo che viene dal greco pragmatico attinenti ai fatti perché pragma, pragmatos vuol dire proprio fatto quindi sono delle realtà evidenti qualche cosa che è accaduto pragmatico è il punto di vista pratico ed è proprio da quest'ottica che Paul Vatlavic studia la comunicazione allora tanto per essere pratici e per capirci partiamo dall'inizio se parliamo di comunicazione lo ricordiamo è fondamentale che perché questa relazione ci sia ci siano due persone che parlano tra di loro eh ragazzi non è che possiamo metterci a parlare da soli quindi minimo due persone che comunicano poi se siamo di più tanto meglio per comprendere la relazione devo tenere conto di quello che dico io ma anche di quello che dice l'altro perché l'illusione più grande dice Vatlavic è quella di illudersi che la realtà sia una sola e nella fattispecie che sia quella che vedo io che sostengo io sulla quale ragiono io devo mettermi in confronto mettermi in ascolto dell'altro cosa vuol dire relazione? se la relazione è importante il rapporto di comunicazione tra queste due persone è importante e dura da parecchio tempo pensate alla relazione che voi avete con i vostri compagni di scuola è dalla scuola dell'infanzia che voi siete insieme ai vostri compagni e quindi naturalmente quella che avete con i vostri amici sarà una relazione stabile perché è importante per tutti voi essere in contatto con i vostri compagni e anche è duraturo questo contatto che tenete un altro dettaglio questo è favoloso secondo me non esiste nessuna regola al mondo per comunicare bene esistono solo dei casi e qui se ci fosse stato spazio ragazzi vi avrei messo un'illustrazione di fantozzi perché quante volte avremmo detto ma di tizio, di caio che magari è un po' strano un po' così esuberante abbiamo detto è un caso umano e allora ecco ecco da dove viene viene da questo per comunicare bene non esistono delle regole esistono dei casi perché può essere che io infastidendo un mio compagno stia invece semplicemente giocando con lui e insomma cercando di stabilire un contatto non c'è quindi un'irregolarità in questo ma c'è quel caso specifico che mi richiede quel determinato atteggiamento attenzione guardate che gli assiomi non sono delle regole sono delle osservazioni sui comportamenti e quindi in base alle osservazioni generali sui comportamenti in generale di tante persone noi ci comportiamo poi per una comunicazione efficace in un certo modo ma con gli assiomi noi stiamo osservando i comportamenti quali sono gli elementi della comunicazione per avere una comunicazione noi dobbiamo avere come nelle operazioni è come per i numeri uno due tre ecco l'uno nella comunicazione è il messaggio il messaggio è una unità di comunicazione se poi noi abbiamo una serie di messaggi che mettiamo uno in fila all'altro allora a quel punto abbiamo una interazione ogni nostro gesto è o può essere una comunicazione un messaggio ogni nostro gesto può comunicare qualcosa quindi una serie di gesti può essere un'interazione anche se io non parlo la comunicazione può essere efficace se io utilizzo la posizione del corpo giusta lo sguardo giusto l'espressione del volto giusta ma se io non ho questa capacità di comunicare attraverso le parole attraverso il verbale il paraverbale e il non verbale quello che voglio allora sicuramente la comunicazione risulterà inefficace posso comunicare anche non volendolo fare perché magari anche inconsciamente mi viene fuori un'espressione di noia terribile ed ecco che zacche per all'insegnante capisce che a me non importa nulla di quello che sta dicendo e allora lì ragazzi è logico che capite bene come c'è la comunicazione c'è come no o può essere anche passiva e involontaria il silenzio è comunicazione anche questo però badate ragazzi quando Vatlavic fissò 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 questa verità che non ha bisogno di essere dimostrata cioè il fatto che non si può non comunicare e che in sostanza il comportamento non ha un suo opposto non possiamo non comportarci anche se stiamo fermi ci stiamo comportando in ogni caso abbiamo sempre un comportamento bene quando lui fissò questo assioma lui fece degli esperimenti perché sapete che dal punto di vista scientifico dal 600 in poi ci vuole l'esperimento per dimostrare qualcosa ed è vero che lui ha fissato questi assiomi ed è vero che lui li ha dimostrati però sono poi evidenti per tutti se solo ci si mette a cercare di capire lui prese come fanno in questi casi e ho anch'io fatto in qualche occasione quando studiavo all'università la cavia per degli esperimenti di psicologia niente di traumatico anzi è anche divertente e lui mise due persone in una stanza e a tutte e due queste persone chiese di non comunicare con l'altro e quindi tutti e due queste persone dentro questa stanza fecero grande attenzione a stare sulle loro e a non fare niente che potesse interferire con quello che faceva il compagno quando uscirono poi tutti e due furono intervistati e la risposta di entrambi fu io ho cercato di non dire niente ma ho capito che quello non voleva parlare con me e allora cosa significa significa che non si può non comunicare ma sempre tenendo presente quel fatto che la comunicazione c'è se ci sono due persone quindi non è che se io sto fermo in camera mia non posso non comunicare perché non c'è nessuno con cui potrei comunicare se non ho device vari e mezzi e non ho la possibilità di accedere a una comunicazione di altro tipo digitale ma in presenza se io sono fermo a casa mia per conto mio non è che sto comunicando non sto comunicando nulla perché per comunicare qualcosa dovrei avere qualcuno di fronte è chiaro no? oh allora posto questo anche l'indifferenza se ci sono due persone in un contesto che sono in relazione può comunicare e porta con sé un significato per quanto una persona con la sua passività trasmetta di non volere comunicare sta comunicando che non vuole comunicare sta comunicando la sua assenza così guardate si potrebbe fare l'esempio anche di due persone che non si conoscono che prendono il medesimo ascensore si fa finta di non vedere si fa finta di non guardare si guarda dritto davanti a sé per non dover scambiare qualche parola anche perché lì a quel punto nell'ascensore la vicinanza è notevole come faremo adesso col coronavirus bisognerà prendere gli ascensori uno per uno ma anche questo silenzio delle due persone estranee dentro l'ascensore alla pari di una discussione che potrebbe essere molto vivace è una comunicazione consideriamo anche questo a Watlavi ci interessava risolvere dei problemi di comunicazione in famiglia e quindi bisogna tenere conto anche di altri fattori proviamo a spiegarlo così fatto anche l'esempio delle persone che si siedono accanto in un aereo mi servo di questo per arrivare poi a quello che voglio dire allora due persone che sono sedute in posti uno accanto all'altro in aereo per esempio in pullman in treno dove volete voi non possono andarsene perché si servono tutti e due di quel mezzo e non possono non comunicare lo abbiamo capito perché sono due persone una accanto all'altra quindi a questo punto si possono verificare alcune ipotesi un'ipotesi è che ci sia il rifiuto della qualificazione il rifiuto della comunicazione cioè dico chiaramente al compagno al vicino al vicino in questo caso che io non ho intenzione di parlare con lui con un po' di sua ciattaggine seconda ipotesi è che invece io accetti di scambiare qualche parola la terza ipotesi è la squalifica la squalifica che noi qui potremmo definire come l'arte gentile di non dire nulla dicendo qualcosa e qui con tempo e spazio vi avrei inserito la famosa gag del non ci sono più le mezze stagioni del trio Marchesini-Lopez perché dire delle banalità è sì accettare la comunicazione ma squalificarla perché comunque non si entra nel vero di quello che uno è di quello che uno sente di quello che uno pensa e si utilizzano così delle espressioni delle frasi fatte che vanno bene e così facciamo finta che stiamo comunicando ma in realtà non c'è la qualità della comunicazione un altro punto è quello nel quale invece per capire che cosa mi vuole dire l'altro io utilizzo il sintomo e li faccio capire subito per esempio il passeggero accanto a me che non è tanto sfacciato e quindi non mi vuole dire chiaramente che non ha intenzione di scambiare parole con me fa finta di dormire e ne avete viste persone con gli occhiali da sole in aereo che vogliono chiaramente dire con quello non seccarmi non disturbarmi perché io non ho voglia di parlare con te ma non avere voglia di parlare è poi veramente quella non avere voglia di aprirsi un'altra persona proprio perché non c'è il tanto non c'è una relazione importante duratura a meno che uno non abbia chissà quale argomento in comune si scopre che andiamo tutti e due per lo stesso motivo e allora magari qualcosa ci sarebbe da dire allora utilizzo il sintomo il sintomo è che questo signore si indossa gli occhiali da sole e io da lì capisco che lui non vuole parlare con me vi faccio un altro esempio in modo che si dia la colpa del fatto che lui non vuole parlare al fatto che sta dormendo ma in realtà non sta dormendo faccio un altro esempio perché voi capiate quanto è importante cogliere il sintomo per esempio se voi avete sentito parlare di anoressia secondo voi l'anoressia da che cosa la posso comprendere? dal sintomo dal fatto che uno è talmente dimagrito in così poco tempo che quel sintomo mi deve spingere a cercare di capire perché quella persona sta così tanto perdendo peso e scomparendo il sintomo è importantissimo perché io possa capire meglio quello che la persona mi sta comunicando è chiaro avevo un alunno a un certo punto che quando io spiegavo mi guardava e vedevo che voleva ascoltare ma non so come dire era come assente come se guardasse la televisione vedendo un film che gli piacesse moltissimo ma se fosse stanco e quindi io percepivo questo vennero i genitori e naturalmente mi chiesero e io dissi guardate mi sembra che sia come perso in una visione di qualcosa che però è come separata da lui e loro mi spiegarono che questo ragazzino la mattina presto voi lo sapete che nelle nostre zone è possibile che capiti questo andava in campagna questo si alzava alle 5 alle 6 per andare in campagna e poi certo che alle 8 era sul banco stanco morto poverino perché un ragazzino ha anche le sue esigenze e la sua necessità di riposare ecco però che da quel sintomo io sono riuscita a capire che cosa comunicava il ragazzino con quell'atteggiamento quindi la domanda se c'è la relazione non è se qualcuno sta comunicando perché comunicare si comunica sempre non è possibile non comportarsi se c'è accanto un'altra persona ma è cosa sta comunicando e il sintomo può essere molto importante per farcelo capire mi accorgo che il tempo vola e allora facciamo così ci riserviamo di considerare gli altri assiomi via via nelle lezioni successive e qui per oggi concludiamo con una illustrazione diciamo che spero che vi piaccia le altre informazioni ragazzi ve le comunico con un altro canale buon lavoro buongiorno 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 è qui da molto il tempo di illudermi cosa fa ascolta la musica no ascolto le pause che ci sono tra un brano e l'altro mi piace tantissimo vado avanti con le tracce ascolto solo le pause ho anche appena preso una raccolta di cd vuoti una meraviglia e la musica non le piace ma si che mi piace la musica sto ascoltando Beethoven un cd di Beethoven perché Beethoven incideva già su cd eh certo ha fatto anche dei video ha fatto ah si? si c'è l'unplugged live in Vienna bellissimo guardi con Beethoven Mozart e Bach che era ubriaco che spaccava gli amplificatori col cembalo e poi com'è finita? è andato in galera ah è lì che ha pensato alla fuga eh eh beh del resto la musica classica rilassa eh a volte anche no eh si sa che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche si ascoltano la musica classica producono più latte eh infatti una volta Beethoven ha esagerato ha fatto scoppiare la vacca del vicino ha fatto scoppiare ma si? si infatti e sua moglie aveva un seno così aveva la nonna di Beethoven giusto? eh giustissimo guardi ah fly fra un po' è carnevale eh si quest'anno sono indeciso non so se vestirmi da mosca o da batman? eh dura la vita quando ti mette davanti a delle scelte eh eh sì eh sì perché se mi vesto da batman ho bisogno di un compagno che faccia socio che faccia Robin eh guardi mi è già andata bene che non mi ha chiesto come compagno per la mosca eh e sì ragazzi per comunicare serve un compagno una compagna e poi potete dirgli quello che volete ma non tiratela troppo per le lunghe grazie per avermi ascoltato grazie a tutti